Scuole, negozi e trasporti. Sono entrate in vigore le nuove norme del governo annunciate dal Premier Conte in diretta TV per limitare la diffusione di contagi da coronavirus. Nelle marche classificate zona gialla sono valide le misure base stabilite per tutto il territorio nazionale. Il coprifuoco scatterà dalle 22 alle 5 del mattino senza differenze a seconda delle fasce in cui è stata divisa l'Italia, gialla, arancione e rossa. Chi per motivi di lavoro, studio, necessità o salute dovrà uscire di casa nelle ore vietate e dovrà giustificare lo spostamento con un'autocertificazione. Il modulo può essere scaricato dal sito del Ministero dell'Interno e potrà essere compilato anche alla presenza degli agenti. In caso di violazione delle norme senza un valido motivo si andrà incontro ad una multa che va dai 280 euro ai 560 in caso di recidiva. Chi invece non rispetta la quarantena rischia il carcere da 3 a 18 mesi oltre a un'ammenda da 500 a 5.000 euro. Diverse poi sono le limitazioni. I centri commerciali rimarranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di genere alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. Bar e ristoranti saranno aperti fino alle ore 18, l'asporto è consentito fino alle 22, mentre per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. A scuola è previsto il 100% di didattica a distanza alle superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità ed è previsto l'obbligo di mascherine in classe alle elementari e alle medie dove le lezioni proseguiranno in presenza. Chiuse le università salvo per ordinanza del governatore Acquaroli i laboratori e le attività del primo anno dei corsi di studio che quindi continueranno in presenza. Disposizioni che si applicano anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e relative alla danza. Per quanto riguarda il trasporto pubblico è confermata la capienza ridotta del 50%. Chiusi i musei, biblioteche, cinema e teatri, restano chiuse anche le piscine e le palestre. Aperti invece i centri sportivi, i parrucchieri e i centri estetici. Inoltre sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e nelle tabaccherie. È fortemente raccomandato ove possibile il lavoro da casa, mentre gli spostamenti dei cittadini sono vietati da e verso le zone rosse e arancioni. Infine sarà possibile spostarsi all'interno della regione e verso altre regioni che siano anch'esse zona gialla. Il decreto rimarrà in vigore fino al prossimo 3 dicembre.